Io invece sono sostenitore di una forma alternativa di testo digitale che si definisce, è una discussione che si è aperta circa un paio d'anni fa, testo liquido. Che cos'è questo? È un testo che viene sciolto in un ambiente digitale, in una piattaforma, in cui ogni pagina costituisce in qualche modo un punto di riferimento a sé state e che può essere connessa a tutte le altre pagine della stessa piattaforma, in una interdisciplinarità e multidisciplinarità che prende l'aspetto e la forma di una mappa concettuale.